Ciao amici, siamo tutti senza parole allibiti da questo ultimo decreto che fa chiudere bar e ristoranti quando veramente sono incredibili gli affollamenti sui mezzi pubblici. Ma la cosa più incredibile è che il governo non sta facendo proprio niente per prevenire il Covid. Il professor Alberto Mantovani, considerato il numero uno tra i virologi, non è un virologo di quelli improvvisati, ha appena pubblicato un libro che si chiama Il fuoco interiore e all'ultima pagina di questo libro il professor Mantovani scrive che il modo più efficace per contrarrestare il virus è attraverso le nostre scelte quotidiane. Cosa mettiamo nel piatto? Non fumare e l'attività fisica. Quindi è fondamentale che il governo si preoccupi anche di questo, anzi soprattutto di questo, perché secondo il virologo numero uno in Italia, colui che ha il punteggio massimo in assoluto tra i virologi italiani, questo incide molto di più del vaccino, delle cure, di qualsiasi altra cosa. Noi possiamo scampare l'ospedale, possiamo scampare la terapia intensiva con le nostre scelte quotidiane, con il nostro stile di vita. In Svizzera il governo ha mandato e continua a mandare a tutti i cittadini istruzioni su cosa mangiare a colazione, cosa mangiare a pranzo, cosa mangiare a cena. Noi invece chiudiamo i ristoranti, a prescindere dal fatto che magari c'è qualcuno che mantiene le distanze, igienizza bene tutti i tavoli, non crea assembramenti, eccetera. Ma è vero, è vero, ciò che veramente ci protegge dal virus è la nostra alimentazione, perché il virologo Mantovani conferma le oltre 10.000 ricerche scientifiche pubblicate sul collegamento tra risposta antinfiammatoria, risposta antivirale del nostro organismo, cioè il virus, lo possiamo combattere in casa, possiamo secernere noi stessi delle sostanze antivirali e questo lo conferma il fatto che ci siano tante persone asintomatiche. Perché sono asintomatiche? Perché hanno ucciso il virus senza nessun tipo di ausilio, lo hanno fatto fuori. E allora chi è che finisce all'ospedale? Finisce all'ospedale chi ha un sistema antinfiammatorio, un sistema antiossidante endogeno impegnato in altri fronti. Perché? Perché mangiamo male. E quindi mangiando male, obesità, diabete, malattie cardiovascolari e tutto questo occupano, impegnano il nostro sistema immunitario e questo sistema immunitario non si può concentrare a combattere il virus. È molto semplice. Allora è molto importante che noi decidiamo che cosa fare, che cosa mangiare a colazione, a pranzo e a cena ogni giorno per inserire nel nostro organismo quel carburante, quella materia prima che serve per la costruzione di molecole antivirali nel nostro organismo. E cosa dobbiamo mangiare? L'abbiamo detto tantissime volte. Dobbiamo ridurre gli zuccheri, dobbiamo ridurre i grassi, dobbiamo ridurre il sale, dobbiamo aumentare le fibre, in particolare le fibre solubili, quelle fibre che nutrono la microflora intestinale che è fondamentale per la produzione di molecole antivirali ed è in contatto diretto con il tessuto polmonare. Dobbiamo aumentare i polifenoli, dobbiamo aumentare gli antiossidanti, dobbiamo aumentare le vitamine. E come fare tutto questo? Ci sono tanti modi per farlo. Quando sentiamo i nutrizionisti cosa ci dicono? di mangiare tante verdure, di mangiare tanti legumi, ma questo non è sufficiente. Devo imparare anche come cucinarli. Perché se io i legumi e le verdure le faccio navigare nei condimenti, anche se fossero oli extravergine d'oliva, questo aumenta l'infiammazione. Allora è importante anche imparare come cucinare, come non far perdere vitamine antiossidanti alle verdure durante le cotture. In questo senso io vi invito a riguardare tutti i video che ci sono su questa pagina. Durante il lockdown ho fatto anche tantissime video ricette. Vi invito a guardare i video che ci sono sul sito cucinaevolution.it che vi spiegano come fare a cucinare. Vi invito a rileggere, visto che l'avete in tantissimi, il mio libro Cucina Evolution, dove è spiegato come fare e dove è spiegato come aumentare gli antiossidanti, le vitamine, i polifenoli, le fibre, anche in piatti come la lasagna, come i fritti, come i dolci. Esistono dolcificanti antiossidanti che possono veramente ed efficacemente sostituire lo zucchero e aiutarci a combattere il virus anche senza rinunciare ai piatti che più ci piacciono. Noi nel ristorante Libra Cucina Evolution approfitteremo di questo momento in cui ci costringono a chiudere la sera per creare dei momenti di informazione distanziata per tutti i nostri clienti, per tutti coloro che vorranno venire al ristorante per imparare cosa faccio a merenda a mio figlio per aumentare le sue difese antiossidanti, per aumentare le sue difese immunitarie. Come posso preparare un fritto perché è l'unico modo con cui mangia le verdure per esempio. Come cucinare dei dolci che facciano bene alla salute. Tutto questo si può fare, il nuovo decreto lascia aperti tutti i corsi che ci sono anche in presenza se riguardano la salute e la sicurezza e questi corsi riguardano la salute e la sicurezza. E in più ci sono tutti i contenuti gratuiti di questa pagina Facebook. Quindi concentratevi sulle vostre scelte quotidiane. Avete dei chili di troppo? Mettetevi a dieta, perdete quei chili. Con Cucina Evolution è possibile perderli anche mangiando lasagne fritti e dolci. Non è necessario fare diete restrittive. È importante riportare il peso corporeo al giusto peso. Non giocate con il fuoco. Non è la mascherina che ci tiene lontani dal virus. La mascherina ci tiene lontano dal contagio. Ma avete visto che anche le persone più attente si sono prese il coronavirus. Qual è la differenza tra prendere il virus e ammalarsi? Le nostre difese immunitarie. Io posso prendere il virus e non ammalarmi. Allora sì, ok? La mascherina, ok? Il distanziamento. Cerchiamo di non prendere il virus. Ma considerato che è facile prendere questo virus, considerato che sono tantissime le persone contagiate, a quel punto uccidiamolo appena entra nel nostro organismo. Facciamolo fuori con le nostre scelte alimentari. Dobbiamo, se abbiamo dei chili di troppo, togliamoceli di mezzo quanto prima in un modo gradevole, goloso, facile. Ma togliamoceli di dosso. È importante. Non giochiamo con il fuoco. Attenzione a cosa mettiamo a tavola. Non portiamo i nostri figli dal McDonald's. Ma non perché sia McDonald's. Potrei dire anche un altro marchio. Non gli facciamo mangiare schifezze ai nostri figli. Leggiamo le etichette. Mettiamo nel piatto i cibi giusti. Ecco, io vorrei che il governo si preoccupasse di questo. Anche di questo. Come stanno facendo i governi di tante altre nazioni. Invece il nostro governo si preoccupa soltanto di fare delle manovre a costo di noi cittadini, a costo nostro, senza spendere niente. Perché loro potrebbero tranquillamente spendere due soldini e andare a verificare quali sono i ristoranti da chiudere e quali sono quelli da mantenere aperti. No. Il governo che fa chiude tutti. Perché non vuole spendere soldi. Quindi ci rimettiamo noi. e senza fare ciò che è veramente fondamentalmente necessario per combattere questo virus. Vi saluto con tantissimo affetto e ritorno al lavoro. Ciao!